ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disenscattolamento di town builder coeworden è un gioco di carte di civilizzazione ideato da eric raway e illustrato da felipe martins e gordon oscar l'ha pubblicato first fish games su kickstarter andiamo a cercare le classiche icone eccole qui dura 30 60 minuti per 1 4 giocatori 14 più l'età consigliata prendete carte dalla fila centrale poi posate delle fondamenta ottenete le risorse e alla fine completate le fondamenta il contenuto sono sostanzialmente carte ci sono 60 carte città una carta miglior quartiere 40 carte di 4 carte di riferimento 8 carte premi 6 carte giudici e il regolamento abbiamo già detto autori illustratori editori la scatola di misure abbastanza compatte misura 12 cm per 17 e mezzo per una profondità di 5 cm e ora andiamo a verificarne il contenuto non vuole collaborare ce l'abbiamo fatta dunque il regolamento qui vengono spiegate i componenti la notte mia di una carta possiamo vedere il valore in punti vittoria il tipo di edificio il nome il costo per posare le fondamenta il tipo di abilità l'abilità e la risorsa che fornisce perché sono carte multiuso qui abbiamo il setup con la fila dell'offerta i premi e i giudici disponibili sostanzialmente i premi sono bonus durante la partita e i giudici a fine partita come si gioca la posa di una fondamenta viene messa la carta orizzontale quando si ottengono risorse si infilano sotto a testa in giù in modo che spunti la risorsa quando si mette da parte l'oro si infila sotto la carta giocatore e non sotto una fondamenta quando si completa delle fondamenta vengono completate si tolgono tutte le carte che pagano il costo e si scartano ci sono tre tipi di abilità costruzione punteggio e stella c'è una variante solitaria e noi andiamo a vedere fondamentalmente i materiali sono un mazzo di carte c'è un divisorio doppio ma in realtà le carte occupano metà allora la linguetta per aprirla dovrebbe essere quella da qualche parte per esempio qua ok allora questa è la carta conta mischiate e miglior quartiere poi qui abbiamo le carte promemoria con la sequenza di turno si riempie l'offerta poi due azioni tra iniziare a posare delle fondamenta pagando quel che c'è da pagare ottenere risorse e mettere da parte dell'oro si possono usare questi tre tipi di abilità si possono spostare risorse tra le fondamenta primo giocatore ok quindi il primo giocatore è dato da chi si becca questa carta qui con scritto first player ok poi abbiamo i giudici che è più difficile di tipo commercio si becca due punti culturali residenziali militari e senza abilità tipo sociale e così via questi sono i premi invece edifici col stesso tipo edifici con costo uno due o tre edifici senza abilità quattro edifici e così via ecco qui il cuore del gioco sono le carte edificio come abbiamo detto tipologia punti vittoria nome il costo e le eventuali risorse che forniscono quando vengono infilate sotto una carta le abilità quindi abbiamo gli edifici commerciali il fabbro il posto di scambio il banco dei formaggi pescheria tesoreria cantina la galleria d'arte la banca ci sono gli edifici sociali c'è un festival una via una taverna caffè il mercato il teatro quelli sociali continuano la scuola una villetta municipio sala da tè sala da ballo giardini poi quelli di presidenziali c'è una fattoria cottage una casa fanotrofio l'acquedotto d'attore sorbatoio frutteto la locanda una magione poi c'è la sede dei mercanti castello palazzo palazzo della città ecco quegli edifici culturali un pozzo una statua fontana una chiesa cimitero biblioteca la cava mulino a vento il vigneto torre campanaria la corte tipo militare abbiamo il ponte elevatoio le stalle canale interno canale esterno torre di guardia l'armeria deposito le caserme fortezza il canale e infine il cancello la porta della città bene ci resta che provare il gioco e recensirlo sui giochi sul nostro tavolo l'armeria 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 il